Come ragiona uno psicologo? E come ragionano più in generale psicoanalisti e psicoterapeuti? Ecco, in questo video vorrei svelare alcune caratteristiche del pensiero psicologico. Primo fra tutti, il pensiero di Freud, che psicanalizza gli altri e se stesso. E allora parto dalla raffinata analisi che Freud fa del Mosè di Michelangelo, che per Freud è sempre stato una fonte di emozioni. Infatti nel 1914 scrive un saggio su questa statua, nel quale espone le sue considerazioni ricche di sorprendenti intuizioni psicologiche, che chiariscono bene il metodo psicanalitico. Nel suo saggio Freud ci spiega le suggestioni che la statua gli suscita, e per fare questo analizza una serie di dettagli. la posizione delle mani, la posizione dei piedi. Considera la postura del Mosè, e partendo da ogni dettaglio Freud riesce a spiegare le azioni e i gesti che precedono la posizione finale della statua, che quindi rivela un retroscena. Un po' come ogni discorso che fa il paziente rimanda al suo passato, o ai suoi traumi nascosti, oppure alle sue intenzioni inconsce. Bene, cosa fa Freud? Parte dallo studio della barba del Mosè, osserva come il patriarca sorregge le tavole della legge, e arriva a dire che Mosè non è staticamente seduto, e quindi fermo nella sua posizione, ma ci sarebbe in lui l'intenzione di muoversi. Ed ecco allora una prima lezione che traiamo dall'analisi di Freud, una lezione su cosa sia propriamente il metodo psicoanalitico. Il metodo psicoanalitico è quel metodo che capovolge gli assunti, è un modo di procedere che sconvolge la teoria più popolare, rivoluzione ad esempio la concezione che ha il paziente di se stesso, o che hanno le persone in genere. Quello psicoanalitico è un metodo che scardina i preconcetti e capovolge i luoghi comuni, dunque sfida i pregiudizi della gente. Vediamo meglio qual è la tesi di Freud riguardo al Mosè. Il punto di partenza della sua osservazione è il nodo della barba presente della mano sinistra di Mosè. Questo sarebbe un dettaglio, un aspetto apparentemente secondario, che invece si rivela capace di aprire una finestra su una nuova visione della realtà. E proprio questo fa lo psicoanalista. Teniamo presente che fino a quel momento storico l'interpretazione più accreditata dell'intenzione del Mosè era rappresentata dal prorompere del gesto di ira. Mosè si adira a causa dell'idolatria del suo popolo. Ed è noto che la sua ira avrebbe causato la rottura delle tavole della legge. Ma Freud capavolge questa visione, la ribalta, e vede Mosè nell'atto della rinuncia a dar corso alla sua rabbia. In pratica, la ragione ha il sopravvento sul furore. E il patriarca, che sarebbe già pronto a scattare, si controlla, resta seduto, rinunciando appunto all'atto violento. Ricordiamo che il Mosè biblico era un uomo iracondo, un condottiero soggetto alle passioni. Invece, il Mosè di Michelangelo è capace di controllare la sua collera, che pure è presente nello sguardo e nell'impeto del balzo trattenuto. È una collera che si vede anche nella torsione improvvisa della testa. Ma Mosè non rompe le tavole, le trattiene con il braccio e le salva. Ora, vi mostro come, usando il metodo psicoanalitico, possiamo fare delle considerazioni ancora più profonde, riflettendo sul fatto che Freud scrisse il saggio sul Mosè nello stesso periodo del dissidio con Jung. Perciò possiamo immaginare come si sia sentito vicino a quel Mosè deluso, che era rimasto traumatizzato dall'infedeltà del suo popolo. Anche Freud è rimasto deluso dai suoi allievi, tutti ingrati, proprio come il propolo ebraico, e tutti contro di lui, pronti a rinunciare alla giusta dottrina per volgersi ad altri culti. Ecco, questo è un ragionamento tipicamente psicoanalitico, che accosta l'uomo Freud all'uomo Mosè, entrambi accomunati da un destino simile. Non a caso, il ritratto che traccia Freud del Mosè è quello di un patriarca consapevole della sua missione divina, ma anche capace di un formidabile autocontrollo, proprio come Freud, per il quale Mosè diventa il simbolo della ragione, che domina sulle passioni che prorompono. Ecco come nasce un simbolo. Lo psicoanalista è a caccia di simboli. Il simbolo nasce perché nel Mosè Freud vede se stesso. In quelle fattezze così fiere, così mirabilmente scolpite da Michelangelo, nello sguardo pieno di dolore e di sdegno, nell'impeto represso, ma anche in quell'autocontrollo ritrovato con fatica e nella consapevolezza della grande missione da compiere malgrado tutto, Freud proietta quello che si agita dentro di lui. Freud proietta. e attraverso l'analisi della statua illustra il proprio conflitto interiore per cercare di elaborarlo. Questo fa lo psicoanalista, questo fa Freud. Bene, torniamo all'analisi di Freud che descrive dettagliatamente i movimenti compiuti in successione da Mosè prima di arrivare nella posizione in cui Michelangelo lo ha immortalato. da prima Mosè è seduto tranquillo poi trasale si prepara allo scatto e infine desiste. Dunque Freud si trova di fonte ad una statua che rispecchia le sue preoccupazioni e le sue delusioni ma anche le sue fantasie e i suoi sogni. La figura di Mosè accende in Freud un notevole investimento affettivo che si traduce in una sorta di timorosa reverenza verso la dimensione eroica di Mosè che come Freud è un condottiero. A questo punto applicando sempre il metodo psicoanalitico possiamo dire che Mosè gratifica in Freud un bisogno narcisistico di identificazione con il profeta che è anche capo di una schiera di seguaci impegnati nell'amirabile impresa di diffusione del sapere psicoanalitico qui abbiamo il paragone inequivocabile tra la terra promessa e l'affermazione del movimento psicoanalitico questa esplicitazione è già chiara in una lettera a Jung quando Freud scrive se io sono Mosè lei riferito a Jung è Giosuè cioè colui che prenderà possesso della terra promessa della psichiatria che a me dice Freud nelle vesti di Mosè è data da vedere soltanto da lontano dunque anche Freud come Mosè è molto ambizioso e infatti ci dice che nessun'altra scultura ha esercitato un effetto così forte su di lui ma la sua motivazione non è di natura estetica Freud vuole capire il mistero della statua vuole sciogliere un enigma e vuole scoprire quale istante dell'evento è stato raffigurato nella statua così come dicevo attraverso una risoluta analisi Freud individua questo evento Mosè scendendo dal Sinei con le tavole delle legge scorge dall'alto la scena dell'idolatria del suo popolo a questo punto con la metodica psicoanalitica Freud costruisce la sua interpretazione centrandosi sull'osservazione di alcuni precisi dettagli che svolgono la funzione di indizi e cioè l'inclinazione delle tavole la postura di Mosè sul seggio il gioco delle dita della mano destra insieme all'ondeggiare della barba poi l'inclinazione del capo e la direzione dello sguardo in base alla rilevazione di questi dettagli Freud fa disegnare tre disegni che come in una sorta di moviola rappresentano il succedersi di tre momenti in sequenza nella prima sequenza Mosè è seduto in posizione di riposo nella seconda sequenza Mosè volge il capo e si avvede della scena poi preso da uno scoppio di ira allenta la presa sulle tavole che rischiano di scivolargli nella terza e ultima sequenza Mosè si accorge che rischia di far cadere le tavole e riavvicina la mano che stava sulla barba stringe le tavole per trattenerle trascinando involontariamente nel movimento anche la barba in sintesi l'interpretazione di Freud è questa Michelangelo ha voluto rappresentare Mosè nel momento in cui riguadagna la compostezza senza cedere all'emozione e quindi frenando la passione per salvare le tavole della legge e allora possiamo dire in un lessico psicoanalitico che Mosè avrebbe sublimato il tradimento dei seguaci ora va detto che questa lettura di Freud riguardo al Mosè può essere così penetrante proprio perché Freud e Mosè sono simili in quanto vivono le stesse problematiche potremmo dire che hanno a che fare con gli stessi complessi del resto questo è il concetto di ferita feritoia la ferita dell'anima di cui è portatore Freud apre uno squarcio di comprensione sul mondo interiore di Mosè allo stesso modo anche il terapeuta può comprendere il mondo interiore del suo paziente soltanto se anche lui è portatore di una ferita simile in altre parole l'interpretazione di Freud può essere penetrante proprio perché parte dai vissuti dello stesso Freud parte dalle sue esperienze personali e quindi dalla soggettività dell'uomo Freud questo è il tema della dimensione soggettiva dell'interpretazione e dell'equazione personale dell'analista che conosce l'altro a partire dalla sua stessa personalità ma questa non è una debolezza anzi è ciò che dà spessore all'interpretazione poi si sa gli elementi che costituiscono l'interpretazione vanno mentalizzati dal paziente perché sono inconsci e quindi costituiscono un compromesso sintomatico che nasce dalla difesa ciò che interessa allo psicoanalista è proprio il rapporto tra il lavoro della mente inconscia e l'impiego del simbolo infatti il simbolo non esprime solo la configurazione dell'inconscio rimosso ma esprime anche la progettualità dell'inconscio appunto che si esprime attraverso il simbolo questo concetto Jung lo mette in evidenza molto bene dunque il simbolo struttura la forma che assume l'implicito dal momento che la formalizzazione simbolica non risulta solo al servizio del mascheramento difensivo ma ha anche un'altra finalità che ha a che fare con il futuro attraverso una configurazione metaforica che allude all'attivazione dei processi di cambiamento in altre parole il fine dell'impiego della metafora simbolica non è tanto quello di camuffare o di depistare il soggetto ma è quello di dare parola ad un movimento di transizione tra ciò che non è ancora e ciò che sarà in questa ottica l'alternativa che si affaccia in modo implicito a livello di potenzialità e di cambiamento espressa in termini metaforici rappresenta ciò che attende di diventare pensiero esplicito appunto in una dimensione futura in questo senso il codice dell'implicito si fa portavoce di qualcosa che rende il soggetto ed è da lui prodotto ma che al tempo stesso non è ancora non è ancora realizzato e mentalizzabile e quindi gestibile l'implicito è nascosto in un territorio simbolico in cui si prospetta un cambiamento che viene preannunciato e viene preannunciato nella misura in cui il soggetto sta creando una domanda di significato ecco che lo psicoanalista si trova al cospetto di qualcosa di indicibile in quanto è riferito ad un pensiero che non si può ancora dire perché è un pensiero che abita una zona di transizione si trova sospeso nel tempo dell'attesa potremmo dire un tempo durante il quale il cambiamento assumerà una forma esplicita e accadrà nel momento opportuno avverrà cioè al momento giusto in psicologia niente accade per caso questo concetto è anche noto come futurizzazione bollas lo chiama così e consiste nell'indagare l'esperienza che parte da ciò che non è stato ancora pensato per arrivare ad una pensabilità per poter essere poi mentalizzato dal paziente Bion ad esempio chiama questo processo alfabetizzazione cioè la dimensione dell'implicito nel senso di ciò che si realizzerà ingaggia l'analista in un ascolto sintonizzato sulle risorse potenziali del paziente che si manifestano attraverso indizi simbolici che non si dichiarano apertamente e che vanno interpretati e decodificati all'interno del processo analitico e quindi anche all'interno del transfert questi indizi parlano piano piano con una voce flebile ma persistente come direbbe carotenuto e lo psicoanalista può decodificare questa voce solo se egli stesso ne ha una qualche esperienza freud ascolta la sua flebile voce interiore parlando del mosè e mette a fuoco la sua stessa ambizione e così come fa lui a ognuno di noi spetta il compito di dare voce al proprio talento inespresso e alla sua autenticità bene vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube per essere informati sui nuovi video di psicologia potete trovarmi anche su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho creato una pagina chiamata la mia psicologia il mio sito è www.robertoruga.it dove troverete varie playlist sul narcisismo sulla dipendenza affettiva e tanto altro infine vi informo che faccio consulenze psicologiche con la video chiamata su skype o su whatsapp oppure consulenze telefoniche per cui vi consiglio di contattarmi su whatsapp al numero 338 16 92 473 per richiedere una consulenza psicologica specificando il nome il cognome e gli orari preferiti buona giornata